Questa appena iniziata si prevede come un'estate da record con quasi 30 milioni di italiani, un milione in più rispetto allo scorso anno. Tutti pronti dunque alle vacanze estive che saranno nelle intenzioni però all'insegna dell'autocontrollo per limitare le spese extra budget che saranno di 1130 euro a persona. Tra giugno e settembre si faranno uno o più viaggi sul modello degli short break, così le partenze totali saranno quasi 63 milioni. In questo modo si metterà in moto un giro d'affari che toccherà i 45 miliardi di euro. Sono queste le previsioni di ConfCommercio per l'estate 2023 che premierà la destinazione Italia preferita dai viaggiatori stranieri. Resterà nel bel paese il 56% degli italiani e per loro cambia leggermente la formula delle destinazioni. Il mare e le riviere quest'anno perdono qualche punto percentuale ma si confermano con il 24% delle presenze al primo posto. Seguono la città d'arte, i piccoli borghi del turismo lento e la montagna. La voglia di viaggi oltre i confini è molto forte. Quattro vacanzieri su dieci trascorreranno una parte delle vacanze all'estero mentre il resto rimarrà in Italia. Secondo le previsioni di ConfCommercio raddoppieranno i viaggi da sette o più giorni lontani dall'Europa verso destinazioni come gli Stati Uniti o il Mar Rosso. Quasi 30 milioni di italiani in viaggio quest'estate e un record di stranieri che visiteranno l'Italia, sottolinea Carlo Sangalli, di presidente di ConfCommercio. Superando i valori del 2019, tutto ciò fanno del turismo il motore principale della nostra economia.